buonasera signori buonasera benvenuti benvenuti a tutti e benvenuti benvenuti mi piace che l'intro di cicalone vi fa fare oh 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 è bellissimo il lavoro di lenny posso dire una delle migliori produzioni di lenny voglio fare no jack billion non dica così why ci sei rimasto solo tu e rubino pensa un po come state messi ragazzi state messi male siamo rimasti solo io e rubino siete messi male pensa che culo esatto qualcuno direbbe buonasera buonasera benvenuti benvenuti a tutti no diciamo faridere no voglio fare i complimenti a lenny per questa intro oh 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 bellissimo il cicalò infatti si chiama tra l'altro mod mi mettete in chat il link lo trovate nel canale di lenny se vi ricordate se no lo vado lo vado a fare io hai dato un occhio a quel profilo che ti ho mandato allora oggi no perché tanto so che non ho tempo davidone lo faccio dopo comunque grazie per la segnalazione ce l'ho un'occhiata molto volentieri buonasera buonasera alessandra buonasera a tutti accomodatevi allora io attendo anche palle vorrei parlarne con lui chiaramente faremo una parentesi iniziale sul sul cerbero e poi andiamo avanti abbiamo un'inchiesta di fanpage non vorrei prolungarmi troppo però vi dico tanto mi avete chiaramente scritto chiaramente è una roba che vi interessa per cui inutile far finta di niente no per cui ne parleremo io al posto di sicche leone quella sarà con la bella eh va bene buonasera ighi forse meglio il periodo di lele e don vito non capisco non capisco un cazzo di questo bravo pallane no vabbè mi sembra giusto io oggi ho seguito mentre facevo le pulizie di casa ho seguito ho seguito un po' la live di simone eh ammetto che l'inizio mi stava facendo commuovere il bastardo poi ha detto delle cose condivisibili non condivisibili però non starei tanto a sindacare oggi su quello ma più ma è una riflessione in generale sul progetto boh ieri è stato scritto anche a marra comunque vabbè sono quelli rimarranno cazzi privati però al di là di questo un commentino lo faremo ok vedo che c'è anche palle perfetto palle in cam tra l'altro palle in cam mettete le palle in cam per favore tutti con le palle in cam tutti con le palle in cam eccolo qua eccolo qua allora aspetta un attimo buonasera palle uomo dalla germania palle uomo dalla germania tra l'altro qualcuno in chat ha scritto cicalone da cruciani ma ci devo credere o mi state trollando fatemi capire c'ha la zanzara vabbè più che da cruciani comunque vabbè poi verificheremo verificheremo allora in realtà io sono c'è c'è il freebooting però non so neanche se vederlo sinceramente perché a di che della questione perché volevo iniziare un po' con la parentesi cerbero poi andare avanti giusto due parole così però sinceramente non so neanche se c'è veramente senso appunto guardare il freebooting tanto immagino che la maggior parte di voi abbia seguito la live penso il 90 per cento per lo meno penso che chissà già visto tutto esatto esatto proprio per quello io ho due cose volevo dire poi lasciare anche la parola a palle sinceramente a me io come sapete vi ho sempre detto non non ho mai avuto grandi rapporti in privato con loro al di là di dave che è l'unico con cui mi è capitato proprio di di parlarci insomma è l'unico in cui dei quattro anzi dei cinque compreso dei con cui ho stretto un po' più i rapporti con gli altri mi hanno invitato spesso i loro eventi quindi sono andato molto volentieri e diciamo ho avuto poco tempo per stringere rapporti umani perché chiaramente i loro eventi loro sono tirati da una parte all'altra quindi è complicato mentre già per palle per dire è un discorso diverso meno per quanto riguarda davide e dave che avete già un'amicizia pregressa però ripeto poi lascio la parola a palle e parlerà lui e quindi al di là del del rapporto umano a me dispiace davvero tanto se appunto adesso ora per come stanno ora le cose sembra abbastanza definitiva mi dispiace appunto sia a livello umano per una questione che comunque sono colleghi e quindi dispiace sempre per un collega quando si interrompe i rapporti lavorativi tra di loro quindi umanamente mi dispiace mi dispiace anche a livello professionale perché come ho scritto ieri a davide in privato vi dico solo una delle cose che gli ho scritto poi ripeto il resto resterà privato e che al di là dell'epicono cioè del meme dell'epicono eccetera eccetera io sarei stupido a non ammettere che parte del mio lavoro l'ho ispirata anche a loro nel senso che sicuramente c'è se vogliamo parlare di canali più grossi del mio che fanno parlano di attualità loro diciamo che sono un buon esempio lavorativo poi per esempio io per quanto non sia quasi mai d'accordo con la zanzara anche cruciani come ho detto spesso sicuramente a livello lavorativo è una persona che sa fare il suo lavoro poi non sono sono molto più d'accordo con quello che dice il cervello che con quello che dice cruciani e parenza però per farvi capire quindi c'è anche una stima lavorativa credo reciproca però oggi io sto parlando per me quindi io parlo della mia stima nei loro confronti sono un canale che mi ha aiutato anche molto molto semplicemente nel senso che comunque il fatto che alcune delle inchieste le abbiamo portate a loro anche se magari come dico sempre no poi parlano sempre solo del cervello ma di noi però a parte le cazzate anche se magari delle inchieste ce l'hanno lavorato noi per me è stato un grande piacere portarle da loro perché mi hanno dato la possibilità molto semplicemente anche di arrivare a più gente perché questo ha un senso stavamo preparando anche una nuova inchiesta sul penguin che a questo punto chiaramente non avverrà sicuramente non da loro e quindi a me mi ha sempre fatto veramente molto piacere lavorare con loro perché sono delle persone capaci e parlo del del progetto cerbero non sto parlando nel nello specifico sono delle persone capaci sono delle persone che umilmente mi hanno accettato anche nel loro gruppo se loro eventi eccetera abbiamo avuto sicuramente da discutere diciamo che marra soprattutto marra ma anche gli altri due inizialmente avevano un'idea di me che fortunatamente è cambiata perché fondamentalmente ce l'avevano parziale perché quello per quel per quel po che mi conoscevano quindi diciamo sono contento di aver fatto parte anche in maniera molto parziale del del cerbro universe so che molti di voi che sono qua mi seguono anche grazie a questo perché molti mi hanno mi hanno comunque detto più volte in chat che insomma che mi avevano conosciuto di là e poi mi erano venuti a seguire anche per sicuramente per il fatto che il format è molto simile quindi c'è cose scontate nel senso questo lo sappiamo non sono più le pigono no vabbè sergente rimarrò sempre le pigono ma io ripeto l'ho scritto vi ho detto solo una cosa del 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 messaggio che ho scritto ieri davide ho specificato al di là del meme delle pigono gli ho voluto veramente esprimere la mia solidarietà e il ringraziarli perché comunque è fattuale usiamo un termine cerberesco fattuale che io sicuramente mi sia ispirato grazie mille suonatore per la sabba sergente che ha più che forse ispirato il termine sbagliato però ascoltato cercato di assorbire no da persone che questo mestiere lo fanno da più tempo di me se vogliamo parlare anche da youtube molto molto più tempo grazie mille manu non ci saremmo conosciuti senza il cerbero no ma guarda non scherzo tante cose sicuramente no che riguardano twitch perché fondamentalmente il canale con cui ho collaborato di più a parte voglio dire piccoli canali come no come all'inizio outsider mario anche d'uncol vogliamo mettere insomma con amicizie costretto amicizia che ho stretto sul web quindi questo io lo devo riconoscere ma non perché io devo riconoscere in questo momento di diciamo di tristezza eccetera io riconosco come io l'ho sempre riconosciuto e al di là delle male lingue che questa cosa me l'hanno sempre addossata come white half copia il cerbero che una cosa che questo ecco questo non ho mai fatto ok questa è una cosa che non mi appartiene non ho mai copiato nessuno ho sempre preso ispirazione da chi prima di me aveva fatto qualcosa e secondo me l'aveva fatto bene e secondo me il cerbero veramente non posso parlare nel totale però in linea generale ha lavorato molto bene sicuramente avrà fatto degli errori come li ho fatti io come li abbiamo fatti tutti chi non ha sbagliato come diceva un grande poeta però è un canale che sicuramente ha utilizzato per capire anche come muovermi in determinati ambienti tipo quelle dell'inchiesta e quella del commentary anche semplicemente quindi io li ringrazio per questo mi auguro come ho detto ieri davide che un angolino al mio cuore c'è la speranza che possano continuare con loro progetti in qualche modo anche se effettivamente per come stanno ora le cose è impossibile ed è anche giusto è una decisione io immagino che molti della community del cerbero questa cosa non la riescano quasi accettare perché è effettivamente lo voglio dire con estrema estrema onestà è un mio pensiero è veramente un brutto modo per farlo finire cioè ci sta che un progetto il cerbero prima o poi sarebbe finito a prescindere come anche il mio canale che posso stare qui a 80 anni ancora a dire teste di cazzo teste di cazzo no stesse cose vale per il cerbero e mi spiace per come è finita perché sarebbe stato sicuramente più sano un po come nelle relazioni no più sano che fosse finita in maniera naturale questa non è una fine naturale una fine che è stata diciamo indotta da alcune situazioni fuori dal controllo anche di alcuni sicuramente dei componenti e quindi mi dispiace per questo cioè la fine del cerbero sicuramente è stata meno accettata anche dalla fan base per una questione che uno dice va bene finire ma così no e questo lo capisco pur non essendo un fan del cerbero ecco io non sono mai stato un fan del cerbero sono uno che li ascoltate attentamente per rubare come fanno tutti i creativi perché io mi reputo un creativo rubare con gli occhi in questo caso più forse con le orecchie il mestiere da qualcuno che lo faceva bene e da prima di me quindi questo io lo riconosco e li ringrazio ringrazio per ripeto i tanti inviti agli eventi ringrazio per lo spazio che mi sono desiderati parliamo così e parliamo a grandi linee così sicuramente sono stati i momenti magari dove ho avuto che ridire con loro però a grandi linee mi porto dietro infatti ho messo quella clip che chi era nel chi era in intro già collegato ha visto un po come tributo quello è un momento sicuramente ilarico era il sabagate sono ricordo quale volume e ci stavamo divertendo e quindi ho messo quella clip un po per diciamo ricordare un momento bello ce ne sono tanti però ho preso quella che era un po diciamo simbolo per me quindi niente questo è quello che ho da dire e spero comunque che tutti e tre trovino il modo per per rimanere creativi perché sono tre ragazzi creativi ognuno in modo diverso spero che ognuno di loro trovi un modo per continuare a pesante un posto discorso scusate continuare a creare con appunto le loro capacità e che trovino la loro strada se sono un attimo di scorto mi sono perso cinque secondi a vabbè ma niente stavo finendo dicevo tramite la loro creatività a trovare un modo per andare avanti insieme o da soli comunque hanno tutti gli elementi tutti e cinque per fare delle cose per cui sono tre sono cinque persone scusate intelligenti che sicuramente sapranno come affrontare questo momento detto ciò io lascio la parola a palle poi se c'è qualcosa da aggiungere la cam si è sfasata non so che cazzo ho fatto disco tranquillo grazie per i cinque euro bicchiere grazie mille e grazie per le sub scusate se non vi ho adesso dopo dopo vi vi ringrazio grazie per le sabine c'è un hype training in corso quindi non ho visto che c'è da dire io ovviamente con davide davide perché anche dei si chiama davide ricordiamolo ogni tanto se ho un rapporto di amicizie quindi ovviamente con loro sono più vicino anche con gli altri ho avuto dei rapporti forse con simone quello qui ci sentivamo di meno ciò non di meno mi dispiace mi dispiace anche perché compreso oggi non non lo vedo lucido ritengo sia un periodo particolare di sicuro della sua vita un po temo che si sia fatto un po prendere da azioni di love bombing di qualcuno che l'hanno portato a gestire secondo me male ma l'abbiamo detto anche ieri e a mischiare diciamo quello che il tuo la tua missione con quello che è il tuo essere professionale quindi non mi stupisce l'ha detto l'ha detto oggi simone sapevo lo sapevo anche ieri che davide comunque marra abbia detto ok in queste condizioni io non non mi sento di continuare quindi è vero che è stato davide a dire la voler lasciare il progetto lasciando poi libertà gli altri di scegliere come continuare è anche vero che per come è nato per come il cerbero si lascia uno dei tre è difficile tenerlo in piedi così com'era quindi una cosa che mi ha lasciato triste poi ripeto gli do il margine del non essere molto lucido perché oggi il discorso comunque era abbastanza da un lato emotivo dall'altro secondo me appunto sembrava sembrava si facesse cherry picking su in realtà pochi perché la live di oggi c'erano comunque tantissime persone erano tipo 5 mila concentrarsi poi sui soli commenti negativi quanti quanto tanti altri commenti erano più di critica ma costruttivi o di supporto comunque di io non lo so non so come definirlo e io gli auguro il meglio a lui per primo perché ovviamente ora verrà visto come no il john lennon che per colpa di una yoko o no rompe rompe beatles parleranno sabato non è non è chiaro quale sarà il futuro quindi io direi di aspettare loro comunicazioni poi che ripeto quello che hanno fatto rimane sono sei anni non mi pare 2018 di lavoro ci sono distinti sono cresciuti si sono evoluti hanno avuto tante trasformazioni quindi di sicuro io sono certo che tutti i membri del cerbero non avranno alcun problema a proseguire le rispettive carriere sul web e credo che che dropperanno anche perché abbiamo ci chiaro anche come singoli sono bravi a farlo e non ho molto altro da aggiungere in realtà no si sulla live di oggi che è una cosa che di cui su cui non mi sono espresso si fondamentalmente come diceva qualcuno in chat simone leggeva molto più i commenti negativi ma ragazzi questo allora vi spiego anche non guarderemo il freebooting questo dico già ho deciso per cui non guarderemo il freebooting tanto è lì ma no ma non mi sembra non servirebbe a niente più che altro è quello tanto è lì se volete andarvelo a vedere ve lo vedete se avete la sub al cerbo ve lo riguardate direttamente dal vod no però per chi ha visto capirà magari meglio le mie parole lui leggeva si molto più commenti negativi che positivi ma ragazzi questo è un meccanismo che penso che anche palle può confermare è un meccanismo quasi automatico io parlo per me però dico forse anche palle può confermare considerato che anche lui comunque sta all'interno di questo sistema è una cosa di cui mi rendo conto giorno per giorno cioè nel senso fondamentalmente ha un commento negativo gli dai peso 10 su una scala da 1 a 10 anzi facciamo 9 e 1 positivo ti passa cioè lo dai un po per scontato quando in realtà non lo è grazie che mi hanno per i due abbonamenti che hai regalato lo dai per scontato ma stupidamente perché in realtà cioè se io devo essere effettivamente obiettivo sicuramente sono più i commenti positivi che per esempio parlo per me ricevo che i commenti negativi cioè ci sono anche negativi però voglio dire fondamentalmente ormai una community ce l'ho piccolina grande che sia non mi interessa però c'è tanti di voi che anche in privato è più volte io non sono uno che pubblica sono alcuni che ripubblica nelle storie qualcosa a me non piace anche perché immagino che se una persona me lo scrive in privato e perché me lo vuole dire in privato no io ripubblico i pubblici tu i pubblici sì va bene io parlo delle magari qualcuno che mi commenta una storia eccetera eccetera quindi è un commento privato però ci sono tanti e tante di voi che mi scrivono mi fanno i complimenti o comunque mi ringrazio che poi non c'è niente di cui ringraziarmi semplicemente però apprezzano il mio lavoro ecco questa forse racchiude un po il tutto e quindi capisco benissimo figurati poi nei momenti di sconforto questa cosa ancora di più cioè è normale che oggi simone fosse più portato a leggere i commenti negativi che quelli positivi e in una live come questa dove chiaramente c'è pessimismo perché non è un momento felice per cui però leggevo anche qualcuno che scriveva vabbè ma poteva abbandonare il progetto senza danneggiare lavoro nessuno ragazzi è ovvio che un progetto che c'è io e palle uomo per dire lavoriamo bene insieme però penso che il nostro progetto non sia paragonabile a loro molto semplicemente perché loro lavorano come diceva palle da sei anni insieme è un canale che hanno aperto tutti e tre insieme mentre mio canale è un canale che ho aperto io poi palle uomo ci siamo conosciuti siamo trovati bene a lavorare e ci siamo inseriti anche se comunque c'è stato se vi ricordate un periodo di un mesetto in cui palle è stato meno presente sul canale e a me è mancato cioè nel senso a me piace fare le live con palle no poi ovviamente essendo appunto diverso con fronte al cerbero non lo paragonerei però è ovvio c'è avere palle su discord è diverso per me fanno live con lui che fare una live da solo c'è la fronte in modo diverso quindi a me piace avere palle su disco però capite che nel nel contesto del cerbero se ma che manchi tutubi che manchi flame che manchi marra lo so che molti hanno quest'idea che ha se non ci fosse marra ragazzi lo stesso marra lo dice tranquillamente non è così nei progetti dove appunto si entra in un gruppo in un gruppo lavorativo se manca l'ultima formazione comunque a cinque c'è tra l'altro esatto si deve includere anche dei chitano e no infatti per quello parlo di gruppo di lavoro in per cui è esatto anche ma è sbravo no no giusto dire se mancasse davo che se mancasse chitano stessa cosa oggi si è parlato più dei tre diciamo founder però ovviamente non è che davo e chitano anzi fondamentale dave ripeto chitano fondamentale da un punto di vista magari più tecnico che pratico del progetto ma comunque fondamentale dave è una persona che ragazzi non non dico sottovalutata perché vedo che anche dal community del cerbero è veramente molto apprezzato e lo capisco dave una persona più che a livello con gli altri tre nel senso che è intelligente una persona che ha un'ironia punzecchiante a me piace tantissimo dave ed è per quello anche che ci ho stretto anche più amicizia forse perché mi trovavo più sulla la stessa linea d'onda e però quello che voglio dire che quello che scrivete che scrivono alcuni voi lo scrivono anche oggi in cell dal cerbero che il c'è a poteva andarsene senza cagare il cazzo è una stronzata raga perché i progetti nuclei lavorativi sono fondamentali io ecco fatto esempio con palle magari una live dove devo commentare qualcosa da solo sì però palle in tutti a parte un paio di gate avevo lavorato da solo forse uno in realtà il walking è stato fondamentale cioè palle ha un apporto al lavoro che io non ho soprattutto quando si parla che so mi viene in mente il sub gate no quello sulle sub di joker palla ha messo in gioco anche le sue capacità da un punto di vista professionale lavora con i numeri voglio dire io in matematica c'avevo sei sempre tipo tirato dietro per cui voglio dire quindi fondamentalmente io se dovessi fare un'inchiesta senza palle mi troverei in difficoltà il walking l'ho fatto senza di lui perché è arrivato tutto un po in fretta però era un gate più basato su testimonianze dove effettivamente fossimo stati in due sarebbe cambiato poco perché è tanto dovevo cioè semplicemente dovevamo ospitare delle persone che parlavano quindi fondamentalmente il lavoro di squadra esiste ed è utile proprio perché funzionale nel momento in cui è di squadra nel momento in cui manca anche solo un membro e non funziona più come prima poi si può provare a sostituire ma non sarà quello di prima cioè il cerbero potrebbe anche di a non c'è dubbio non c'è marra mettiamo dave per dire fisso ma non sarebbe il cerbero e il cerbero è quello che è stato creato in questi anni togliendo un elemento non è la dire a ma dubbi poteva levarsi dal cazzo e veniva sostituito no perché sicuramente c'è tanta gente che lo stai al cerbero molti molti sottovalutano il fatto che ci siano dei dei rapporti umani tra di loro l'hanno ribadito in tutti i modi cioè si vogliono bene non è non è lui salco fedez capisci sì 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 esatto ma poi stiamo parlando di rapporti per quello che dico io ho fatto il paragone tra me e palle ma non è proprio un paragone attendibile perché lì si sta parlando di un progetto molto più lungo nato da anche un punto sono persone che si conoscono da da tanto tempo no no anche chi scrive non bo per me no anche se mancasse un membro sarebbero bene live t'ho detto anche io il mese in cui palle uomo non c'è stato non è che non ho fatto live l'ho tenuta però volete dirmi che la stessa cosa nel bene nel male non lo è capite c'è quello che voglio dire nel bene nel male non lo è perché comunque è uno che guarda magari qualcuno segue questo canale e questo me lo ricordo perché nel periodo in cui palle è stato un po per i cazzi suoi e qualcuno c'è quasi in tutte erai qualcuno già ma palle uomo è normale perché comunque si è abituato a vedere anche un certo tipo di interazione e quindi è normale poi ripeto e lì stiamo parlando c'è questo per mille perché intanto non sono due persone ma solo cinque stiamo parlando di un progetto di diversi anni per cui dire secondo me è proprio sbagliato c'è una questione di opinso non è oggettivamente sbagliato dire sarebbe la stessa cosa cioè assolutamente no mi sembra che edulcoli un filo troppo se è la tua idea la rispetto hanno vissuto sono tre testi in un solo cosa adesso così mi sembra esagerato villa però sì cioè se vogliamo vedere metafora di questo tipo va bene tre porci e un'anima diceva qualcuno comunque anche solo il fatto che si sono fatti la pandemia in casa insieme anche ovviamente sì 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 certo 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 no ma poi tu e qui ritorniamo su un tema che effettivamente io avevo saltato ma che palle uomo ha giustamente sottolineato i rapporti umani raga cioè nel senso magari per voi pubblico vedere uno vedere l'altro non vi cambia un cazzo e ci può pure stare nel senso va bene ma per loro no cioè nel senso ripeto magari chi guardava le mie live nel periodo in cui non c'era palle uomo non vi cambiava magari più di tanto ad alcuni di voi per me sì era diverso perché comunque palle non partecipa a tutte le live ma diciamo a 3 su 5 4 su 5 sì c'è capito quindi è ovvio che io sono abituato a gestirmi la live con anche palle quindi io personalmente l'ho sentito figurati loro che lavorano insieme da sei anni e che che condividono un sacco di cose come ha detto palle hanno condiviso la pandemia quindi molto a stretto veramente stretto contatto quindi magari per voi non cambierebbe un cazzo per loro cambia e se per loro cambia cambia anche per voi cioè perché ovviamente se per loro cambia non avranno più lo stesso mood eccetera 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 quindi non se non ha poco senso per le ore sia loro che il pubblico hanno bisogno di metabolizzare no no ma vabbè ma io ne ho parlato perché ovviamente mi avete scritto ovviamente era inutile far finta di niente ho detto alla mente le notizie della piattaforma non commenti questo esatto si sarebbe un po si guarda il freebooting no esatto il freebooting no però capito dire due parole sì ma anche perché ripeto ragazzi se vogliamo per quanto riguarda me cioè parliamoci chiaro io ho collaborato in realtà abbastanza poco con altri che ho ho fatto a parte ripeto i salottini magari il periodo dei salottini o le volte che entro in live da gallotti eccetera eccetera però con il cerbero ho veramente collaborato a livello lavorativo cioè nel senso abbiamo lavorato insieme su delle inchieste ci hanno invitato a me palla i parti proprio perché eravamo parte anche del gruppo di lavoro forse siamo più parte del gruppo di lavoro del cerbero che cerbero universe perché almeno parlo per me palle ha partecipato sicuramente a molte più live di me io non penso cioè lo diciamo l'ho attraversato il cerbero universe però non mi non mi reputo uno dei personaggi del cerbero universe perché non sono ricorrente con il personaggio del cerbero palle già di più però voglio dire sarei stupido a non dire che comunque mi hanno anche dato una mano perché effettivamente il sabagate sì ci abbiamo lavorato in particolare noi ma se l'avessimo portato sul mio canale non sarebbe stata la stessa cosa perché mi è stato proposto facciamolo dal cerbero perché aveva più senso farlo lì cioè io ci ho pensato non ho detto subito sì non per i soldi o perché hanno mi perdo la visibilità che potrei avere io perché vengono tutti da me ci ho pensato perché temevo che questa cosa no vado dal cerbero di ah guarda il cloud chaser o una cosa che oggi non mi porrei neanche più infatti l'altro giorno c'era il ciccio gamer che sono andato tranquillo una cosa che oggi non mi pongo più come problema ma all'epoca sì all'epoca mi sono posto il problema perché comunque ero preoccupato che qualcuno potesse perché c'era tanto questa cosa perché il meme pigono era partito così e poi la gente chiaramente non riesce a capire dove il meme quindi c'è wide half era quello che doveva copiare il cerbero quello che addirittura qualcuno mi aveva accusato di stare nel gruppo link per portare cioè robe assurde ho letto però al di là di questo libero al di là delle stronzate che ho letto trascurando trascurando per grande tempo che tanti contenuti io non sono il gruppo link del cerbero però tanta roba cioè se trova una cosa interessante chiamando a davide anche a me c'è la manda interessante la trovo interessante non è che diciamo questo fa per te sì 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 no certo a parte quello ma poi anche appunto cioè io quando ho fatto il walking gate che tra l'altro non ha fatto neanche di numeri bassi mi ricordo che eravamo sui 500 poi anche su youtube non era andato malissimo l'ho proposto a davide perché mi sembrava una cosa per cui valesse la pena espandola un pubblico più grande che quello del cerbero il mio grande limite ragazzi fondamentale qual è ma non perché a me interessi fare tanti numeri il mio grande limite è il fatto che se io porto un gate porto un'inchiesta non ha lo stesso impatto mediatico se lo porta il cerbero e come se il cerbero porta un gate porto un'inchiesta no no esatto ma sto dicendo cose banali però voglio dire stessa cosa che se il cerbero porta un gate non ha lo stesso impatto che se lo porta alle iene non perché le iene abbiano più credibilità perché le iene sono su italia 1 e hanno milioni di spettatori capito quindi è sempre un discorso cioè non è di credibilità i numeri non danno la credibilità i numeri sono un segno di sicuramente di lavorare nel modo giusto non per forse modo etico però in modo giusto seguendo quella che è l'onda del marketing comunque investendo nelle cose giuste e anche magari di eventuali botte di culo che nella vita non fanno mai male quello sicuramente però fondamentalmente non è quello che mi interessa cioè io sono proposto delle cose a davide e parlo di davide perché diciamo della parte inchiesta se ne occupava sempre un po più lui e perché mi interessava che queste cose arrivassero a più persone non c'è mai stato l'intenzione di ah voglio spammarmi eccetera ripeto io ringrazio il cerbero non perché mi ha dato la possibilità di spammarmi ringrazio il cerbero perché con gli occhi e con le orecchie come ho detto prima ho rubato il mestiere a gente che lo faceva perlomeno da prima di me e a mio vedere anche molto bene poi qualcuno potrà dire a me il cerbero fa gagare ognuno ha la propria opinione ci mancherebbe e stiamo parlando la ciabatta quindi visto sì non la vedremo chiaramente ripeto chi vuole se la va a rivedere però abbiamo fatto un commento mi sembrava giusto farlo quindi per cui ripeto poi tutto il resto ho scritto in privato e rimarrà privato però ci tenevo a dire due parole perché ripeto anche la clip che ho messo inizio live era anche un po non tributo come ha scritto qualcuno era clip tributo era semplicemente una clip per ricordarmi e ricordarci che comunque il cerbero podcast è un progetto che ha dato sicuramente una mano al mio canale quindi questo indubbiamente come delle volte mi ha ferito ripeto ho parlato anche che grazie bocchini bocchini ci sono state delle volte in cui ho fatto live dove li criticavo perché magari appunto ho fatto esempio di don vita semplicemente per dire quella cosa lì mi aveva un po preso mi ero preso male e l'ho detto cioè ci mancherebbe cioè non dico che sono perfetti la differenza è che tra persone intelligenti no anche se non si va d'accordo su una cosa non è che per forza cioè a meno che non sia una cosa veramente grave si può essere in disaccordo su un argomento sennò siamo tutti fatti lo stampino no quindi se uno non condivide una cosa non è che poi il tentativo che viene fatto ti ricordi anche quando non so io e te eravamo un po più critici rispetto al palermitano perché avremmo avremmo cacciato via fosse stato fosse stato qui davide aveva un suo punto di vista legittimo e alla fine non eravamo d'accordo sullo spot ma fine sì 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 no no ma sono state tante le volte no però vuol dire che esatto come detto tu persone cioè io sono sempre una persona obiettiva e anche palle lo è cioè non metto io dico sempre te lo dico spesso in privato oggi ho fatto guarda che io con te magari sono più aspro anche in privato nei rimproveri ma perché ho stima di te sì 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 non mi diresti niente certo ovvio 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 certo certo no ma infatti quello che voglio dire però per essere obiettivi non è che metto tutto nello stava no fine per me l'esperienza col c'è se il cerbero veramente finisce oggi ok se uno mi chiedesse come è stata la tua esperienza personale col cerbero io ho un bel ricordo nel senso che al di là degli scazzi è stata una bella esperienza con loro e li ho conosciuti molto tardi nel senso che alla fine che li seguo seriamente saranno in mezzo due ok e so che sicuramente c'è la gente che li segue forse dalla live numero uno ok però da da quello che ho potuto seguirli mi sono perso anche magari la caverna mi sono perso un sacco di cose però per quello che li conosco è un progetto che ho sempre stimato al di là dei singoli errori del degli scazzi eccetera 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 è un progetto che ho stimato e al quale come ho detto ritiro la parola ispirato perché poi la gente ce ne fa un po quello che vuole del della parola ispirato invece parlo quello che mi ha sempre detto il mio mi ricordo il mio maestro di discipline pittoriche chiamo dico maestro non professore perché era un maestro è importante rubare non copiare ma rubare con gli occhi nel caso chiaramente dell'arte diciamo visiva rubare con gli occhi e cercare di usare qualcosa che qualcuno ha già fatto per portare qualcosa di nuovo ovviamente però la differenza è c'è una un fiume tra essere un ditto la brutta copia di sì o esprimere poi spesso lo sai qual è il problema che su tante cose abbiamo anche opinioni simili spesso che meno male con condividiamo più o meno gli stessi ideali come come persone quindi spesso capitava che eravamo eravamo d'accordo anche perché se non ci fanno schifo tante cose se il cerbero dicesse a cicalone fa bene a fare quello che fa non ci collaborerei perché non riuscirei mai collaborare con uno ma non perché perché cicalone perché se uno pensa che cicalone fa bene vuol dire che ha tutta una serie di no c'è quel quella cosa che lo porta a dire cicalone ha ragione vuol dire che arriva a tutta una serie di ragionamenti di formazione di crescita che ha avuto ok quindi quando mi diceva il marra pensiero dicevo no semplicemente marra pensavo allo stesso modo cioè non è che ho il marra pensiero se marra dice che il razzismo è una merda cosa devo dire no così non ho il marra pensiero sono d'accordo con marra o con chiunque lo dica cioè nel senso capito quindi secondo me vedi la la cosa che che ieri poi ha destabilizzato il tutto è che al di là di non mettere anche un'altra voce o non prevedere in futuro un'altra live con gente che porta acqua d'altro secondo me non ha fatto neanche un background check perché il personaggio era ospite ieri abbiamo ieri abbiamo visto qualcosina qui in live a vedere un po di cose in più e infatti ne parlavo pure con germano forse con lui approfondiremo sta roba perché ci sono dei campanelli allarme abbastanza importanti no ma l'ho detto infatti infatti io è lì il problema è lì il problema perché ok sì le idee però se non solo non c'è diciamo la volontà di avere una discussione perché poi quello era la critica di ieri grande critica della chat e dall'altro lato beh grazie non è proprio tutto come è stato presentato e non per colpa perché le parole le ha dette le ha dette il tizio quindi non per colpa di simone però di sicuro non ha fatto un buon background check tra l'altro riascoltando ieri la live il libro in questione lui non l'ha ha detto che ancora non l'aveva letto a quello lì che diciamo l'ha portato a invitare si si ha detto ho visto ho visto il retro visto l'autore bababà ok no ma infatti dico il discorso era che la live c'è il personaggio che ieri era in live con simone è un personaggio che non solo il cerbero come gruppo lavorativo ma lo stesso simone quando era un po più lucido perché ora a me mi sembra a me sembra personalmente la mia opinione evidente che non sia troppo lucido avrebbe condannato al di là del fatto che di questa sua conversione di questo suo momento spirituale che ragazzi a me personalmente cioè posso vi dico una cosa non a voi dico a pubblico io ho letto anche oggi e poi ho chiuso la chat perché soffrivo per simone delle cose avverranti cioè voi vi dovete rendere conto e so che in realtà le persone cui mi sto rivolgendo sono persone a cui non gliene fotto un cazzo di queste parole però le dirò lo stesso voi vi dovete rendere conto che dall'altra parte dello schermo c'è un essere umano e lo so che qualcuno lo fa proprio per questo lo fa per farci soffrire ragazzi io personalmente io sono un canale da 200 spettatori ok da quando io ho iniziato a fare il mio format ho ricevuto più di una minaccia di morte sul gruppo dei trollini fanno i sondaggi su come ci devono come dobbiamo morire eccetera 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 la diva del tubo ha pubblicato la foto di mia sorella su instagram matteo saba la foto di mio padre matteo saba mi è venuto sotto casa e stavo parlando di me c'è che sono nessuno confronto al non nessuno tutti siamo qualcuno nessuno da un punto di vista di eco mediatico confronto c'è questo e sono state cose capito che che sono successe a me wide half streamer c'è il stream seriamente da un anno e mezzo neanche due anni sono veramente eppure eppure mi sono sugato questo e io vi assicuro che sono cose che mi hanno fatto soffrire profondamente e hanno fatto soffrire anche palle quando saba no 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 dico quando quando non si capiva sembrava che no 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 soffrire anche palle nel senso che quando saba ha fatto quelle cose mio padre tu mi hai chiamato preoccupazione nel senso è incazzato anche tu è incazzato stavo piangendo sì no della rabbia però voglio cioè nel senso di rabbia di nel senso capito sono cose che hanno ferito me hanno ferito palle per guarda quello che è ferito di meno mio padre che come ha detto anche quando ha partecipato però aspetta un attimo c'è va fatta la distinzione importante ma non ma io concordo con chi dice che non erano così tanti per il volume di persone che partecipano al commenti negativi ma cioè equiparare al comportamento nel senso anche il singolo coglioncello e che scrive la la cattiveria gratuita in una chat non puoi paragonarla ciò che ha fatto saba no no ciò che ha fatto no no allora forse come al solito perché io poi parto per la tangente aspetta ricompongo tutto allora in live del cerbero oggi ho letto queste cose come l'ho lette in tante altre chat in tante altre live del cerbero ok non sto dicendo che la live del cerbero di cioè la chat del cerbero di oggi fosse a berrano ho detto che alcuni lo sono non lo era io l'ho letta tutta all'inizio alla fine io no c'è un punto smesso perché alcune anche quel singolo messaggio mi faceva stare di merda per simo cioè ma proprio umanamente al di là delle responsabilità che ha simone di cui io parlo a livello umano i messaggi di totale cattiveria venivano moderati ovviamente essendo quello il volume cioè hai visto com'era il volume certo magari si arrivano dopo cinque secondi però ovviamente lato streamer rimangono visibili anche se eliminati certo e si concentrava un po più su quelli ci sono stati tanti altri messaggi anche inclusi qualcuno qualcuno da parte mia erano di una critica costruito comunque che volevo portare a dire ok valuta qua ho visto il tizio qualunque c'era tanta gente che scrive un sacco di moderatori i moderatori non è che sono gli ultimi gli ultimi arrivati sul canale camilla io sono oggettivo e forse mi sono spiegato male comunque dopo che finisce palle mi spiego meglio non ho detto che oggi simona ha fatto la live più bella del mondo e che la chat era la più brutta del mondo ok se è passato questo messaggio mi dispiace dopo mi spiego meglio al di là di questo io ho parlato di queste cose che mi sono successe e ho parlato sia di matteo saba che comunque è uno stato è uno streamer e sia le minacce di morte non mi sono arrivate da streamer mi sono arrivati da utenti che mi hanno chiamato dicendo ti inficco una bottiglia giugolare e nel gruppo dei trollini c'è un emoticon con una bottiglia spaccata ok per farvi capire qual è cioè cosa c'è anche sul web io mi ricordo di quella live con domenico de bold come cazzo si chiamava diceva io vado sul disco per umiliare la gente perché per me è normale questo c'è anche sul web non sto dicendo che la live di oggi era questo sto dicendo che ogni tanto la gente si dimentica e dall'altra parte ci sono esseri umani ok questo volevo dire comunque vai avanti palle poi specifico meglio quello che volevo dire magari mi sono spiegato anche male ok vai vai continuo no nel senso non volevo dire che oggi simone raviti sto dicendo io dico la verità ho iniziato la live che mi stavo commuovendo perché sono una persona molto empatica non perché simone rappresenti per me semplicemente perché vedere simone soffrire come vedere soffrire un essere umano in generale mi sono una persona molto empatica mi faccio coinvolgere ragazzi oggi guarderemo dopo questa parte la live il la seconda parte del del giovani dell'inchiesta di fanpage giovani meloniani io ieri sera non l'ho guardata perché se no io dormo male sono una persona emotiva e uno mi dice che cazzo fai il suo mestiere se sei così che ti devo dire e sono emotivo raga e mi piace fare questo lavoro allo stesso tempo sono una persona emotiva sicuramente sono riuscito anche a costruire delle barriere che mi permettono di fare questo lavoro senza dover perderci il sonno senza dove però me ne ho staccato delle live dove sto male e questo mio lato emotivo penso sia da un sicuramente da un lato un mio punto debole perché appunto alcune volte non riesco a no prendere distanza alcune cose dall'altro un mio punto di forza perché tanti di voi mi hanno scritto ti seguo perché gli piace questo mio lato emotivo e penso che siano gli stessi che magari mi seguono anche la domenica perché io quando suono è come se stessi parlando col adesso dico una cosa che magari qualcuno dirà cringe ci sta va bene mi espongo sto parlando sto facendo parlare la mia anima io quando suono sono in un cazzo di altro universo cioè per me quella live è importantissima perché mi fa staccare la testa e per me la musica è sempre stato un modo per stare bene la cosa che ho sofferto di più del covid io personalmente è stato la non potevo suonare ma il fatto di non poter suonare insieme alle persone che è la cosa che a me piace di più ovvio il format musicale lo faccio la sola domenica perché è difficile farlo in altro modo ma a me la cosa che piace di più è condividere io ho sempre detto la musica per me è una delle armi più potenti contro il razzismo perché io ho fatto delle gem una arrivava dall'albania l'altro da nigeria l'altro dalla tunisia l'altro c'è capito e si ed erano linguaggi comuni quindi a me questo è quello che mi rende felice però fondamentalmente quello che voglio dire è che ovviamente l'emotività è una cosa che a me quindi la live di oggi ho iniziato che ho dovuto trattenere le lacrime perché sono una persona emotiva non perché si cioè fosse stato chiunque altro mi avrebbe fatto commuovere lo stesso poi ripeto simone ha preso una piega in questa live che non condividevo perché come ha scritto anche qualcuno in chat dava molto la colpa alla chat quando sicuramente è una componente importante per quello dico alcuni di voi intendo utenti non voi qua in chat adesso in generale siete dei bastardi perché godete di questa cosa e qualcuno in chat oggi al cerbero c'era ovviamente ma la chat del cerbero di oggi simone voleva leggere solo quello ma è una cosa che ho fatto anche io tante volte lo capisco però non è colpa della chat se il cerbero ehi grazie per i cento benvenuto patrizio l'altro giorno sono passato in chat da te c'era uno in che stava con patrizio in live era uguale al gabbrone ha detto minchia illusione del band mi sono subito attivato grazie mille per i cento comunque padre e benvenuto se è la prima volta che scrivi comunque quindi no quello che volevo dire non giuro non capisci lo ha fatto per non prendersi la spostata io no io mi incazzo camilla va bene incazzati cioè che ti devo dire c'è stato un dirottato cioè è iniziato in un modo la live poi ha dirottato del tipo problema non sono io il problema sono gli altri no è questo non lo congredito alcuni ci sono ci sono stati se dovesse sincero nel discorso che ha fatto i riori campanelli d'allarme d'allarme scusami per cioè io spero che non sia caduto proprio in una dinamica da settarolo perché l'enfasi che ci mette il il rush che sta facendo non è naturale in più vedo che ci sta un po di lob bombing dai parti dei membri di questa comunità religiosa che lui si condivide e boh io spero che chi sta veramente molto vicino sia attento perché di persone che poi in un momento di fragilità si fanno prendere anima e corpo da un gruppo di persone organizzate che sia che sia il gruppo non lo so con cui giochi il gruppo con cui preghi è alto ci sono anche perché la scuola dove si è laureato tra virgolette il tizio di prima è fondata da un certo tizio che è molto problematico dottor brown andate a cercare a quello che leggevamo l'altro giorno ed è una infatti lui dice io sono sono laureato in teologia lì no quella è una scuola per formare leader quindi no raga però se è una cosa che sinceramente mi preoccupa però no ma anche a me anche a me però il simone però ho provato ma non è una cosa che io posso anche dici prendi il messaggio guarda forse stai cascando in una dinamica di questo tipo rifiuterebbe cioè direbbe che sono un coglione che non capito un cazzo che queste cose qui quindi l'unica speranza è che o ci arrivi da solo o che chi sta fisicamente vicino faccia cogliere che non è un'evoluzione naturale quella che ha avuto in così breve tempo no io quello che voglio dire solo che io capisco anche qualcuno incazzato in chat però posso dire io cioè vi chiederei una cosa io non voglio che voi siete d'accordo con me però vi chiederei di non giudicarmi cioè non giudicare il mio punto di vista ah sì tra l'altro mi ricordano mi ricordano scusa che il dottor brown è anche quello che ha fatto la prefazione al libro però non avendo la letta ok quindi no volevo dire non giudicatemi io per come sono fatto questo è il mio carattere e ripeto il mio lato emotivo è una cosa che a voi ogni tanto piace o vi va bene sempre o non è che vi va bene a sprazzi perché sennò se vi sto su cioè se questa cosa non vi piace di me e sono fatto così io avesse avuto simone oggi davanti lo avrei abbracciato perché al di là delle responsabilità che non si è voluto prendere neanche oggi e che ha ok è una persona che è evidente cioè per me ok se fosse un mio amico è evidente che sta attraversando un periodo complesso ok di sofferenze eccetera eccetera quindi e ovviamente ieri io ho condannato quello che ha detto la casula eh cioè nel senso non è che questo tra l'altro scusa per la cronaca federica ha scritto oggi in chat che poi simone si è scusato ok sì no ma ripeto al di là di quello non si è manco scusato la casula non penso fosse oggi la live per cui in cui scusarsi lo potrà fare tra l'altro è una cosa che secondo me ci sta anche farlo in privato poi ovviamente palla è scomparso ok sei ritornato sono preoccupato va bene il cerbero ma adesso anche tu non scomparire per favore io oggi l'avrei abbracciato perché la mia empatia mi porta a dire a questo dopodiché non è che questo vuol dire che quello che ha fatto prima va bene poi ripeto ragazzi è una cosa che è come quando i genitori il bambino magico bambini in africa muoiono per dire diamo anche una misura alle cose nel senso che in questo momento in corso ci sono diverse più di dieci guerre in tutto il mondo per cui ovviamente diamo anche la giusta misura però ripeto avesse avuto oggi di fronte simone l'avrei abbracciato perché si vedeva che una persona che soffriva ma al di là della fila di questo progetto quindi poi ripeto se questo è da giudicare questo mio essere emotivo è da giudicare fatelo vi chiederei di non farlo però sono di vi dico quello che 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 penso come abbraccierei un un dave un marce capito è un momento di sofferenza per tutti poi che simone abbia delle responsabilità che magari oggi non stesse apprese ragazzi ricordatevi sempre d'altra parte c'avete un essere umano e al di là di tutto appunto non è hitler che dice anche hitler è un essere umano però su hitler capisco simone è una persona che avrà fatto degli errori grazie redorso per i 9 mesi però vi dico quello che vi devo dire che cioè vi dico quello che penso punto se questa è una cosa che a voi risulta ipocrita o che voglio voltarmi dall'altra parte lo accetto però vi dico quello che penso io sono fatto così è una tua sensazione cioè non è che giusta o sbagliato esatto esatto no però è come se io fossi un po c'è qualcuno che in chat ha che ti fai un po prendere per il culo io non mi faccio prendere per il culo però sono fatto così cosa cosa vi devo dire cioè nel senso almeno ripeto se dall'altra parte avessi un pedofilo che ha stuprato dei bambini sicuramente proverei meno empatia detto ciò non sono uno di quelli che dice i pedofili tagliamo i coglioni e li lasciamo morire dissanguati perché comunque ci vede un lato umano anche in uno che fa una cosa abberrante come stuprare un bambino ok cioè quello rimane perché come vi ho sempre detto sono un grande fan dei paesi dello stato di diritto in cui siamo adesso faccio e ho fatto come al solito i miei esempi esagerati però era per dire che dall'altra parte abbiamo una persona che ha fatto gli errori però non è che ha ammazzato veramente qualcuno ok quello che è tutto lì semplicemente mi dispiace e ho iniziato a live commuovendomi è andata avanti mi sono incazzato su alcune cose però io dico quello che è ma invece di credersi al di sopra invece chiesa al di sopra di tutti in questi anni avessi fatto autonautica forse non sarebbe arrivato a questo punto però ragazzi cioè ripeto ma perché fare questo tipo di discord non capisco nel senso stiamo parlando di una per cioè ne stiamo parlando semplicemente perché un personaggio pubblico ma quanti di noi in chat avranno fatto errori simili a simone nella propria vita cioè facciamo una no dico qualcosa di molto cristiano chi è senza peccato scagli la prima pietra non dimentichiamoci io vi dico solo questo non sto puntando il dito contro nessuno ok però non dimentichiamoci che stiamo parlando di simone oggi perché è un personaggio pubblico ma di simone santoro ce n'è una ogni angolo e forse lo sono stato anch'io simone santoro cioè non non lo so è quello il discorso cioè lo stiamo mettendo a processo ok per errori comunque legati a quello che quella che è la sfera sociale di rapporti umani ok quello che voglio dire parlando di simone perché ha creato un problema non perché ci sta sul cazzo wide ma io non vi sto dicendo poi potete pensare quello che volete io vi ho spesso il mio pensiero vi ho solo chiesto di non giudicarlo e non dire che lo faccio per succhiare il cazzo perché mi voglio voltare l'altra parte o perché non sono obiettivo ok già parlare porta giudizio vabbè comunque io esprimo ripeto il mio il mio pensiero insulti colleghi la chat si creda di sopra di tutto da anni ma stiamo davvero giustificando sta roba allora pedalini camilla se vuoi leggere la cosa che ho detto io come un giustificare va bene cioè se per questo secondo alcuni io giustifico i borseggiatori semplicemente perché contesto cicalone la vogliamo mettere così va bene cioè nel senso se dire che vorrebbe che oggi avrei abbracciato simone e che comunque al di là degli errori che ha commesso che non ha messo è una persona che oggi avrei abbracciato va bene che vi devo sei giustificarlo va bene vuoi da ora la responsabilità della mia sanità mentale e tutta su te e palle siamo le ticci pure tu in putta no non lo fate non lo fate non 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 vi affezionate così a noi ecco questa è un'altra cosa io penso che come diceva anche il suonatore forse prima oggi chiaramente siamo siete parlo più per voi tutti meno lucidi anche per una questione che magari molti di voi seguono il cervello da tanto tempo e sono straziati da questa cosa io lo capisco però ecco questo è un consiglio che vedo non ve legate così tanto a noi perché possiamo morire domani ricordatevelo quindi trovate cioè non vi rifugiate neanche in noi dico in generale noi content creator perché ripeto io come ho sempre detto non morirò vecchissimo ragazzi quindi non lo so però non vi affezionate troppo a noi perché non siamo umani come voi per cui insomma un uomo che arriva a dire certe cose e come potete aspettare che ragioni lucidamente ma infatti esatto c'è tra l'altro oggi avate delle pretese da da o qui suonatore dice una cosa che condivido molto c'è oggi secondo me qualcuno di voi aveva delle pretese da simone che non erano pretendibili perché è una persona che non è lucida a mio vedere quindi cosa cosa pensavate oggi simone attaccava live ed era magicamente tornato cioè sano no è impossibile è un momento di difficoltà secondo me lui in realtà dice il contrario dice che è un momento in realtà felice della sua vita perché ha trovato dio e che però non si riflette nell'ambiente lavorativo poi ragazzi volete che io vi dica senza troppo maniera poco impadiga simone ha fatto un errore fondamentale cioè allora se io domani mi convertissi ok quindi vi dicessi ragazzi in chat i moderatori bandano tutte le bestemmie non voglio sentire bestemmiare voglio lavorare rispetto è il mio canale quindi se poi questa cosa comporterà l'allontanamento di alcune persone o la chiusura del mio canale è il grande errore che secondo me ha fatto simone che poi è diciamo quello che poi racchiude tutto è un effetto domino e che ha portato questa suo percorso personale sul posto di lavoro è un po' come se io lavorassi non so alle poste e mi sono convertito al cristianesimo il giorno arrivo in poi ragazzi quando se bestemmia più è che bestemmi tiro due schiaffi non lo posso fare perché non è non è che posso portare questa mia cosa nel mio ambiente lavorativo e simone ha fatto un po questo è entrato un giorno in live non proprio un giorno però comunque è stato un percorso arrivato basta io so così e voi dovete adattarvi questa è una cosa che non vuoi fare questo secondo me il grande errore di simone quello di aver portato una parte della sua vita che ognuno di noi lo fa ovviamente ma questa cosa qui si imposta sugli altri e sulla chat secondo me questo è il grande errore è una cosa di vista professionale non umano ah mi senti sì 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 molti senti c'è una cosa da dire rispetto a quello di sì è un personaggio pubblico ma alcune cose proprio perché sei un personaggio pubblico e parli con vasto pubblico non le puoi sbagliare e parlo proprio di roba di un certo tipo scusa scusa ma in che senso non si può portare il proprio percorso in live ma ti ascolti ma tu ti leggi io ho detto questo ho detto il suo errore è stato imporlo agli altri non portarlo perché se io domani mi converto e voglio parlare di questa cosa sono libero di farlo ma sul mio cazzo di canale non lo sto imponendo a nessuno al massimo a palle perché parliamo ogni tanto gli scappa la bestemmia io per esempio non bestemmio faccio attenzione per voi eh perché io non mi avete provato a bestemmio non è una cosa bella ma lo faccio ok però capito cioè io non ho mai detto quello che hai scritto tu non mi mettete in bocca cose questo è un viziaccio che avete ascoltato però però i soliti noti non non c'è bisogno di non cazzo sia ma se non mi ascolta vaffanculo non ho detto questo ho detto che l'errore è stato imporlo non capito c'è avere questo appeggiamento invasivo ti ristrago un attimo ti ristrago un attimo perché se no inizia oggi la chat è più numerosa ovviamente la questione è che se tu parli a un pubblico vasto e dici cioè dai proprio per certe delle delle sciocchezze ad esempio no che può essere una cosa praticamente pochissimo grave il test delle 16 personalità certo c'è c'è gente che ci si costruisce la personalità su quella roba però è praticamente l'oroscopo o ieri grave dire che quello cioè perché lo dice lui cioè non è colpa di simone dove andrà forse a vedere se che cazzo di divulgazione fa questo ma se quello lì si definisce un laureato in teologia e non è laureato in teologia e lui l'ha presentato scientifico tra l'altro sul suo sito dice giornalista professionista mentre un giornalista pubblicista e richiedendo ammirite sono due albi separati sta cosa non si può fare però divulgatore scientifico che però non è in grado ma neanche mi sono a vedere pure i suoi profili cioè neanche nelle sue storie in grado di linkarti all'articolo cioè il massimo ti linka un sito che è un raccoglitore di articoli vecchi e nuovi di riviste buone scarse non si capisce un cazzo quello non è un divulgatore scientifico se tu lo presenti come un divulgatore scientifico e quello che dice è scientificamente valido c'è un problema se tu dici che oscio era una brava persona c'è un problema perché storicamente oggi lo sappiamo che non è così questo sto dicendo e se lo fai o cosa più grave se metti in dubbio la validità delle opinioni di altri perché sono dalla parte della in quel caso della pornografia però la ovviamente li ho provato tristezza pure a sentire ma no vabbè ma alex e davide ci guadagnano con sta roba quindi ovvio che difendono ma non è vero anche perché mi pare che entrambi soprattutto davide perché lo seguo di più però diverse occasioni mi ricordo c'era anche alex in live dal cerbero con simone presente dei problemi del del porno dell'industria porno delle sex worker e tutte le dinamiche correlate ne hanno parlato in maniera abbondante non essendole l'odio ok il migliore dei mondi possibili quindi boh e roba roba non è manco a perché stanno insieme c'hanno una figlia no davide faceva pure all'inizio il cerbero quando si parla di questi argomenti quindi è lì che scatta la cosa dice la ora tu hai questa cosa è deciso che questa è la tua nuova battaglia la tua nuova il tuo nuovo dogma che poi è quello che diceva anche oggi simone l'ha detto davide nel famoso ultimatum perché non si può andare avanti così perché finché c'è discussione opinioni diverse anche forti anche strambe quel che ti pare c'è discussione ma se tu presenti una verità dogmatica il dogma per definizione non si discute non si ragiona certo sì 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 ed è quello il problema ed è quello che da personaggio pubblico diventa complicato poi fondere i due livelli perché boh come fai soprattutto se sennò diventi cioè capito non è che ma è quello che dicevo io è tanto simpatico ma sai quante quante cose pericolose ma certo ma infatti quello che io non so magari io non sono capace ma è questa io ripeto che voi vi perché qualcuno dirà ma lo fa per per fare l'amico io ragazzi come vi ho spiegato c'è crediate o meno sono una persona emotiva quindi per me questa non sto parlando ripeto della guerra in palestina però comunque è una live in cui ci metto le motività perché mi dispiace per quanto non posso dire che sono degli amici sono persone con cui ho collaborato per cui mi dispiace veramente tanto quindi quello che dicevo io prima che qualcuno non ha capito del fatto che non è che ha sbagliato a portare in live questo suo cambiamento io anche ho portato in live dei miei cambiamenti palle anche tutti noi cambiamo se tu cambi come persona e ti presenti fisicamente in live ovviamente ovviamente esatto ma il discorso è quello che ha detto palle che la live c'è la cosa assurda la cosa che non ha senso e che lui ha fatto quel tipo di live dove in realtà il cerbero probabilmente sarebbe stato una live in cui avrebbe reattato cioè la live che ha fatto simone è una live che fino a prima della conversione simone il cerbero avrebbe reattato e criticato perché non c'era un contraddittorio perché come ha detto palle non non si creavano discussioni ma semplicemente se parlava di quello punto e basta quella è la cosa a cui ho pensato ci ho detto raga sto guardando una live del cerbero che il cerbero avrebbe commentato e criticato nel chiaramente nei limiti con le loro capacità anche argomentative quindi è quella cosa è quello che dico è quello il problema è quello che dico simone in cosa sbagliato a imporre questa cosa in un canale che non è suo è un canale di di marra di 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 gialluca di simone di di marco e di e di dave di david c'è capito quindi lì non è così che anche se loro avevano deciso di fare delle live dove erano da soli o comunque questo non doveva però sfociare io porto il cazzo che voglio e fanculo al progetto questo è quello che sto dicendo ok quindi è quella di oggi pure certo ragazzi però quella di oggi ripeto la live in cui simone era il suo spazio si è voluto prendere il suo spazio e non la trovo mentre live dell'altra volta non è simone che prendevo sì era simone che prendevo il suo spazio ma era una live normale cioè quella di oggi non è una live normale ragazzi cioè a live dove lui praticamente c'è la mia ultima live e dico addio a grandi linee diciamo così un addio magari non definitivo però quindi è quello il discorso cioè io quello dicevo ci sta portare i cambiamenti live perché comincia la palle comunque anche se provi a reprimorlo te ne accorgi però fondamentalmente quello che secondo me è stato problematico e che lui è imposto quindi quello stavo dicendo poi chi ha capito capito se no me l'ha andata a fare in culo per quanto riguarda quindi questo era il discorso punto ma rimanendo l'hai visto ciccio gamer che disse il cerber ha cambiato idea vabbè ma non disse dai vuoi ascolare l'hai visto su cerber eclipse a cerber eclipse ho visto ho visto anche il video di ciccio gamer però l'hai visto ha fatto proprio un video intero è giù e magari domani allora magari domani lo guardiamo domani così domani oggi giovedì oddio mi sono persi i giorni sì domani giovedì domani venerdì sembra un buon sabato ecco hai visto non devi però al nickname giusto eh non devi leggermi e come gode alfe che chiude il cerberin oggi champagne siamo abbastanza tristi entrambi siamo dispiaciuti però vabbè al nickname giusto non gli posso dire un cazzo ah ah lui l'aveva detto lui l'aveva detto per cui che dobbiamo dire vabbè comunque guarda che io c'è adesso li non devo leggermi aspetta aspetta ma la mia teoria la mia teoria di creazione dell'account no vabbè ironico ironico palle ironico c'è anche vedi la cosa che lui non vede la live e quindi anche quella che non la senti e ironico no però a parte le ironie c'è sicuramente qualcuno che lo pensa è per cui la carta ero ironico sì ce l'ho ce l'ho però devo cercare ma non non se la merita non devi leggere non sa se leggi noterai che sia ironico sì 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 ma l'ho notato dal primo momento che sei entrato si nota si nota va beh comunque ragazzi io direi di chiuderla qui spero appunto che sia passato il mio messaggio quello di palle che come solito sono due messaggi distinti ognuno ha la propria idea sicuramente quello che in comune è il dispiacere perché al di tutto sono in alcuni casi amici alcuni casi anche solo colleghi comunque persone con cui abbiamo condiviso dei momenti anche molto molto belli qualora qualora dovesse finire o limitarsi il progetto è comunque un dispiacere sì 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 che lo ritenevo un bel progetto sì sì io anche con dei limiti ovviamente non sempre ci trovate d'accordo ma d'accordo ma a grandi se dobbiamo dare un giudizio a grandi linee è un progetto prendendo proprio lascia stare la parte proprio come progetto di intrattenimento infotainment youtube e twitch sì 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 lascia esatto sì sì parlando sotto questi termini sì assolutamente un progetto che ho stimato e che stimo in realtà tuttora e che è comunque diciamo di sicuro tra i capisaldi di twitch italia ovviamente sì ovviamente sì va bene andiamo avanti chiusa qui quello che c'è da dire l'abbiamo detto se ci saranno aggiornamenti spero più positivi possibile e niente ci riuscite no non vi mancheranno i gate ragazzi quello che vi posso promettere è che noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto e se ci sarà l'opportunità anche in collaborazione con i ragazzi del cerbero nel senso al di là se il loro progetto è comunque sono persone capaci a fare quello noi i gate li porteremo personalmente parlo chiaramente non saranno quelli del cerbero saranno diversi ma noi continueremo col nostro lavoro quindi sicuramente sicuramente ci saranno i gate e spero anche nel caso in cui appunto il cerbero veramente finisca che ci potrà essere l'occasione di farli con loro quindi su questo cicadone pre registrato ma dai un cicadone no alla zanzara pre registrato grevis grevis però vedi io io alien non vi preoccupate a quei buchi di trama ci penserà white alfa non vi preoccupate ai vari ritorni ai village penso io no beh a parte gli scherzi ovviamente non sarà la stessa cosa io non posso sostituire nessuno come loro non posso dire cioè come abbiamo detto prima nulla è sostituibile però noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto su questo non non ci non ci piove grazie grazie